Ha fatto un progresso più basso, un secondo e 35 centesimi. Il risultato peggiore nel raffronto è quello che riguarda Marco Lucchinelli. Uncini, una brutta caduta di Uncini, una brutta caduta di Uncini che però viene investito. È stato investito, Franco Uncini è stato investito purtroppo, stava scappando dalla pista, è stato investito. Una situazione veramente... ha perso il casco, purtroppo la situazione ci sembra molto seria. È stato investito da Wayne Gardner, privo di sensi. E anche il segnale del commissario di gara non ci sembra possa autorizzare una stagione veramente disgraziata. quella di quest'anno, vediamo nel replay, ecco, Franco Uncini che scivola, una brutta scivolata. Lo segue Roberts, che passa. Vedete Franco? I lossi passano dietro. Roche lo prende in pieno proprio sulla faccia. E gli butta via il casco, purtroppo. Gli butta via il casco. Franco Uncini steso a terra. Viene chiamata l'ambulanza. Sì, ma l'ambulanza non può aspettare così tanto tempo. Stiamo commentando... So che non vorremmo mai commentare la situazione di un pilota seduto e sdraiato a terra.